ok signori e signori e diamo inizio ufficialmente a questa fantastica festa di matrimonio tutti in piedi grazie è il giugno del 2015 e siamo al bar azzurro di senigallia un'amica in comune un aperitivo tra amici fa conoscere i nostri ragazzi e tra uno spritzio e un bicchier di vino i primi squadi di passione Fabrizio non perde tempo e dopo il quarto cocktail invita Giulia a seguirlo fuori dal locale Giulia non ha fatto nemmeno il tempo a capire se voleva uscire per prendere un po' d'acqua o per fumare una sigaretta che Fabrizio gli si avvicina e gli diversa tutta la sua piatella alcolica verso di Giulia datogli un bacio a stampo e oggi sono qua a coronare il loro sogno oggi sono qua nel giorno più importante della loro vita signori e signori accogliamoli con le mani a tempo di musica e i nostri sposi Fabrizio e Giulia grazie a tutti 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 grazie a tutti